Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca legato ad una sedia e minacciato da due sconosciuti con un piccone. Vittima di una violenta rapina sarebbe stato un 73enne di Bucciano, frazione di Pieve, Santo Stefano, alta valtiverina nel territorio di Arezzo, così come riportato dalle colonne del Corriere di Arezzo. Un episodio dai contorni ancora da definire, ma stando a quanto è già emerso, l'uomo alle prime luci dell'alba si sarebbe trovato in casa due sconosciuti che a volto coperto e con in mano gli attrezzi da scasso, lo avrebbero prima legato ad una sedia e poi gli avrebbero chiesto di consegnargli denaro contante. Lo avrebbero anche minacciato di mozzargli le dita di una mano e così lui avrebbe indicato loro il posto dove erano custoditi i soldi, circa 1300 euro. A quel punto i due avrebbero lasciato l'abitazione. Successivamente il 73enne, in evidente stato di shock, è stato portato in pronto soccorso per gli accertamenti del caso, indagano i carabinieri. Torniamo adesso invece sul caso degli intossicati a Pergo nel comune di Cortona. Inizialmente si indagava senza avere dei presunti responsabili, adesso sarebbero cinque quelli individuati dagli inquirenti. Sarebbero cinque le persone individuate dagli inquirenti come presunti responsabili delle esalazioni di monossido di carbonio nella chiesa di Pergo a Cortona. Era lo scorso 6 gennaio quando 27 persone, tra cui cinque bambini, rimasero intossicate. Si trovavano nella chiesa del paese per la recita parrocchiale dell'Epifania. Circa 100 in tutto le persone presenti. Il risultato dell'attività su difetti e malfunzionamento ha permesso di individuare presunti profili di responsabilità nelle condotte di cinque persone che si erano occupate di controlli e manutenzione. Nulla sarebbe invece contestato alla diocesi e al sacerdote. Il 30 novembre del 2023 è un analogo episodio sempre nella chiesa di Pergo. A causa della fuoriuscita di monossido di carbonio dall'impianto di riscaldamento in quel caso, le esalazioni del gas provocarono un malore al sacerdote e ad una donna. E torniamo anche sul caso dell'arbitro aggredito durante una partita di calcio. Ci aggiorna Chiara Sadotti. Sconfitta Tavolino, un punto di penalizzazione in classifiche 500 euro d'ammenda ed ancora allenatore e dirigente squalificati fino al 2026 ed infine altri cinque tesserati con lunghe squalifiche. E così è arrivata la decisione del giudice sportivo sulla partita di amatori Gricignano-Pistrino e come prevedibile è stata pesantissima. Il brutto episodio di calcio è immortalato da un video che ha fatto il giro del web la scorsa domenica ad Anghiari allo Stadio Procelli. Nell'ultimo turno di campionato, a seguito della mancata concessione di un rigore, giocatori e dirigenti del Gricignano avevano aggredito il giovane arbitro costringendolo a scappare negli spogliatoi e a chiamare i carabinieri. Il risultato della partita, che era ormai arrivato ai minuti di recupero, era di 2 a 1 per gli ospiti del Pistrino. Il direttore di gara, dopo l'aggressione, era stato refertato al pronto soccorso di Sansepolcro con cinque giorni di prognosi. L'arbitro, secondo quanto ricostruito dal giudice sportivo nel referto, era stato accerchiato, aggredito e costretto a fuggire verso gli spogliatoi da tutti i componenti della panchina dell'atletico, oltre ai giocatori titolari e dirigenza. Anche alcune pasticcerie del territorio aretino sono finite nel mirino dei NAS di Firenze, che nei giorni scorsi hanno eseguito 19 controlli in altrettanti laboratori di produzione e commercializzazione di dolci, soprattutto pasquali, in tutta la Toscana. Nel dettaglio sono state rilevate non conformi per lieve carenze strutturali e igienico-sanitarie tre attività dell'Aretino, due a Prato, tre a Pistoia, una a Siena. A Firenze invece una pasticceria è stata chiusa e dovrà tenere la sala cinesca abbassata, fino a quando non sarà ripristinata la salubrità proprio degli ambienti. Un incidente nel pomeriggio di oggi in via Lorenzetti ad Arezzo una donna che era in sella, la sua a bicicletta lungo la strada nel quartiere Giotto. Si è scontrata con una vettura sul posto e sanitari del 118 con un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. La donna è stata trasportata all'ospedale San Donato di Arezzo. Adesso invece apriamo una pagina dedicata alle antenne. Sono due i casi che interessano il territorio Aretino. Partiamo da quello di via Sicilia ad Arezzo dove è già iniziato il montaggio di questa antenna per la telefonia fortemente osteggiato dai residenti. Faccio una cosa simile, a 15 metri dai chetti, nelle case, dove ci vivono 24 ore su 24, non è un ufficio che ci stai 8 ore e 16 se fuori. Questo è 24 ore su 24 e il nostro organismo la notte assorbe tutto ciò che è nell'aria, ma lo so io. Sudditi no cittadini è questo uno dei cartelli con cui i residenti di via Sicilia ad Arezzo hanno ribadito la loro contrarietà all'antenna per la telefonia mobile che di fatto è stata montata a 20 metri dalle loro abitazioni e sotto i loro occhi. Io abito in quel palazzo lì e io sarò collocato a 40-45 metri in un'antenna. Questo palazzo qui credo a 25 metri e penso che già questo sia sufficiente a dire lo scempio che si è compiuto. Se installeremo una struttura di 34 metri davanti alle case delle persone in un'area in cui consentiva collocazioni diverse senza problemi. Abbiamo tanti ettari di terreni liberi e quindi si poteva trovare una diversa collocazione. Il Comune avendo un piano delle antenne l'errore è averlo fatto scadere nel 2017 senza procedere ad un rinnovo e quindi a questo punto viene a mancare un governo del territorio, una gestione del territorio quindi è chiaro che a quel punto dovevano, quando è arrivata l'istanza dei gestori, dovevano appunto non dare autorizzazione bloccarli, prendere tempo, convocarli allora, trattare e dice state fermi aspettiamo che nel giro di alcuni mesi rinnoveremo questo piano e troveremo la localizzazione giusta. 1.800 le firme raccolte e i cittadini potrebbero non fermarsi qui. Come comitato ovviamente abbiamo rilevato l'assenza del sindaco perché con un'ordinanza potrebbe bloccare i lavori per il principio di precauzionalità. Il sindaco è la figura preposta alla salvaguardia della salute dei suoi cittadini. 1.800 firme spostano assessori, spostano sindaci, non siamo stati ascoltati e per cui il sindaco è in America. E proprio su questo caso c'è la risposta del vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti che dice ai nostri microfoni, per me il caso non è chiuso. Per me la questione ancora non è chiusa. Che si può fare però? Una serie di approfondimenti per capire se al di là del fatto che gli atti amministrativi sono corretti e vivono di vita propria poi io credo che la politica abbia degli spazi che vanno interpretati e compresi. Il fatto che un'azienda non voglia prestare un minimo di attenzione in un contesto che è critico, nel senso che c'è una situazione diciamo di tensione, c'è un sentimento di avversione e credo che non sia interesse neanche dell'azienda non tenerne conto. Ecco, è stato detto addirittura che in Consiglio Comunale l'assessore Luccherini avrebbe detto non sono io l'assessore di riferimento, insomma le tensioni non sono mancate. L'assessore Luccherini ha fatto un riferimento di ordine tecnico per spiegare alcuni aspetti di ordine tecnico, poi non ci sono gli assessori, c'è l'amministrazione e a me sembra ieri di averci messo il carico di tutta l'amministrazione comunale. Quindi vediamo? Vediamo, ripeto, siamo un po' amareggiati e personalmente sono un po' disturbata da un atteggiamento un po' protervo che ripeto non ha niente a che fare con le caratteristiche amministrative, ha molto a che fare col fatto che quando un'azienda entra o è in una città il rispetto e il buonsenso lo dovrebbe tenere in considerazione. Ecco, da domani si fa questo piano delle antenne? Questo è, credo già in elaborazione però, è stato oggetto di polemica, chi fa la polemica oggi non ci ha restituito un piano delle antenne fatto, questo che significa che non sono percorsi semplici, sono percorsi che peraltro sono sottoposti a normative nazionali e regionali che stanno cambiando vorticosamente dove c'è da tenere in equilibrio l'interesse legittimo di un privato, quale che sia, e l'interesse legittimo dei comitati e dei cittadini e l'interesse altrettanto legittimo delle amministrazioni, se proprio la vogliamo buttare in politica dico che se la legge Gasparri non fosse stata modificata noi oggi non parleremo di questa cosa. L'altra antenna che crea numerose polemiche, in questo caso nel comune di Anghiari, quindi siamo in Valtiberina, è invece oggetto di una interrogazione regionale a firmarla, sono stati i consiglieri del PD Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis che hanno appunto interrogato l'assessore alle infrastrutture, tecnologie e innovazione Stefano Cioffo, proprio su questa vicenda, riguarda l'installazione, come dicevamo, di un'antenna per la telefonia mobile in località La Gattina, nel comune di Anghiari. In sostanza viene chiesto al presidente della giunta regionale di valutare l'iter che ha condotto alla collocazione dell'antenna proprio in quel punto, anche in questo caso fortemente contestato dai cittadini. Apriamo adesso invece la pagina dedicata alla Santa Pasqua, oggi è il giorno delle vie Crucis. È partita la marcia di avvicinamento alla Pasqua con le celebrazioni in ogni angolo della provincia. Nel giorno del venerdì santo la passione del Signore si celebra in tutte le parrocchie con la via Crucis, la liturgia poi alle 18 in Duomo ad Arezzo, mentre alle 21 a Santa Maria Assunta di Cortona la processione con i simulacri della passione. Il sabato santo alle 9 in cattedrale saranno celebrati ufficio delle letture Lodi, mentre la veglia pasquale inizierà alle 23. E arriverà poi così nella notte di Pasqua, dove avremo anche il battesimo di alcuni adulti. Le suggestioni di Pasqua tornano anche a San Zeno. L'appuntamento con la 39esima edizione della Passione di Cristo è per venerdì 29 marzo alle 21, quando il paese alle porte di Arezzo proporrà un viaggio indietro nel tempo, coinvolti oltre 60 volontari impegnati come figuranti, tecnici e collaboratori. La via Crucis torna poi anche a Frassineto, un appuntamento che va avanti ormai da oltre 20 anni. Anche la comunità di Castiglion-Fibocchi è pronta a vivere un emozionante momento con la sacra rappresentazione. Nevicoli del Borgo riprende questa tradizione interrotta nel 2019, 100 i protagonisti di cui 80 bambini e ragazzi. I figuranti si sono anche esperati ad alcune celebri opere d'arte del Rinascimento realizzate da grandi artisti, tra i quali la rappresentazione dell'ultima cena. A Santa Firmina invece dopo 24 anni si è fermata la manifestazione per mancanza di volontari. E allora come abbiamo sentito nel servizio, Santa Messa alle 18 in Cattedrale, poi il Vescovo raggiungerà Cortona per la tradizionale via Crucis. Questa sera alle 21 per gentile concessione e ovviamente li ringraziamo proprio di Tele San Domenico. La nostra emittente potrà trasmettere subito dopo il telegiornale appunto alle 21 la Santa Messa ufficiata dal Vescovo Andrea Migliavacca. L'altra faccia della Pasqua, quella indubbiamente più profana, parliamo intanto di meteo perché insomma non ci sono buone notizie su questo fronte. Intanto in queste ultime ore è arrivato questo cielo giallo anche in Toscana, un evento decisamente eccezionale perché insomma alzando gli occhi al cielo appunto si può notare un cielo molto ovattato e uno strano colore come dicevamo tendente al giallo. Gli esperti spiegano che dalle coste algerine arriva fino a noi un flusso di polveri deserti che sospinte dal vento di scirocco, sostanzialmente sabbia. E insomma per quello che riguarda invece il giorno di Pasqua e Pasquetta insomma secondo le previsioni meteo purtroppo come dicevamo non ci sono buone notizie perché è attesa la pioggia e allora un rimedio potrebbe essere quello di rifugiarsi nei musei aretini. Sono già quasi tutte sold out, le visite al ciclo della leggenda della vera croce di Piero della Francesca, gli affreschi conservati nella Cappella Bacci ad Arezzo hanno riaperto da poche ore dopo la chiusura dovuta alla manutenzione conservativa. Gli affreschi saranno visitabili tutti i giorni tranne la mattina della Santa Pasqua per consentire le celebrazioni religiose all'interno della Basilica di San Francesco. Gli altri musei statali saranno anch'essi aperti al mattino Casa Vasari e il Museo Statale d'Arte Medioevale e Moderna mentre il Museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate sarà aperto anche al pomeriggio con gli ultimi giorni per un evento dedicato ai più piccoli, la mostra giochi e giocattoli nell'antichità che indaga il mondo dei giochi di bambini e bambine e anche adulti nell'antica Roma. Visite e aperture straordinarie anche per la Casa Museo Ivan Bruschi che organizza appunto aperture straordinarie in questo weekend di Pasqua, giornate in cui sarà possibile godere di una visita guidata alla nuova mostra la libera maniera arte astratta e informale nelle collezioni intesa San Paolo. Una persona su 80 nella fascia di età fino ai 18 anni è affetta da disturbi dello spettro autistico nel territorio della Asla Toscana sud-est. Ogni anno vengono effettuate oltre 100 nuove diagnosi. Un dato diffuso in avvicinamento al 2 aprile giornata della consapevolezza sull'autismo. Un dato che però è sottostimato chiarisce il dottor Ettore Caterino, neuropsichiatra infantile perché non tutte le persone interessate si rivolgono ai servizi per una diagnosi appunto accurata oppure in alcuni casi restano sotto soglia perché pauci sintomatici o addirittura semplicemente neurodiversi. Sono tante le iniziative che sono state messe in calendario. Il pomeriggio del 3 aprile si terrà un seminario a Grosseto sul tema proprio autismo e spiritualità. Ancora sanità parliamo di screening per il tumore alla prostata. La regione toscana ha affidato il progetto all'ISPRO, l'istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. Si partirà dal monitoraggio dell'uso del PSA proprio come test di screening nella popolazione maschile. Ne abbiamo parlato con il direttore di urologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il tumore della prostata è il tumore più frequente nell'uomo. Nel sesso maschile è quello che ha l'incidenza maggiore e maggior numero di casi. Però allo stesso tempo per fortuna è un tumore ad alta probabilità di guarigione. Abbiamo a disposizione molte terapie per il tumore di prostata quando soprattutto questo viene riconosciuto in tempi precoci e quindi viene trovato quando ancora è piccolo e non ancora diffuso nell'organismo. Quindi è una probabilità di guarigione che può raggiungere i valori del 98% o 99% per alcune tipologie e quindi è importante riconoscerlo presto. L'incidenza è un'incidenza che è stabile negli anni sostanzialmente nella nostra provincia come in Italia come soprattutto in occidente perché si è visto negli anni che l'incidenza del tumore di prostata nei paesi occidentali ha un'incidenza maggiore rispetto ai paesi asiatici. Questo probabilmente è secondario allo stile di vita, alle abitudini alimentari. C'è un sintomo ovviamente sappiamo che il cancro insomma in genere si manifesta quando purtroppo ahimè è troppo tardi c'è da un sintomo quando comunque c'è una diffusione importante. In questo caso è così oppure ci sono sintomi campanelli di allarme a cui poter stare attenti? Purtroppo no, il tumore di prostata come tanti tumori non dà sintomi se non in fasi avanzate come ha giustamente osservato e quindi è importante fare delle visite periodicamente. È un'analisi che si chiama PSA. Non è uno screening riconosciuto come la mammografia o il pap test per la donna, però è uno strumento che sicuramente negli anni ha permesso di diagnosticare più precocemente il tumore di prostata. È molto dibattuto negli Stati Uniti, oltreo c'è, hanno per esempio l'utilizzo continuativo cioè dell'analisi del PSA, però al momento è l'unico strumento che abbiamo per effettivamente intercettare la malattia quando si sta sviluppando in un momento abbastanza precoce. con che frequenza? Almeno una volta l'anno associato di solito ad una visita urologica della prostata. È anche vero che però la prostata è un organo che si può ammalare di altre malattie, quindi l'ipertrofia benigna per capirci, quella che ci fa urinare male, oppure la prostatite, l'infiammazione che ci dà dei sintomi tipo cistite e quindi questi sintomi e queste situazioni possono portare il paziente dall'urologo e incidentalmente determinare poi a una diagnosi di tumore della prostata sulla base di sintomi che sono nati però per un'altra malattia. E adesso siamo alla pagina della cultura. Arezzo in questi giorni ha accolto Katia Ricciarelli che ha tenuto una lezione concerto per le stanze dell'opera. Una lezione concerto aperta al pubblico con una protagonista d'eccezione, Katia Ricciarelli. Ad ospitarlo la Casa della Musica di Arezzo nell'ambito delle stanze dell'opera, percorso di specializzazioni operistiche e avvicinamento alla lirica promosso da Fondazione Guido d'Arezzo con la direzione artistica del maestro Mario Cassi. Questi sognano ma devo dire a occhi aperti e con i piedi ben piantati per terra perché hanno scelto questo programma, perché è un programma, non è una scuola, perché hanno capito che li può aiutare a entrare meglio nel mondo del lavoro dell'opera. e questo veramente gli fa onore. Però stasera veramente Katia Ricciarelli è d'accordo con me, se lo dice lei, ci hanno veramente emozionato. È veramente un messaggio anche di speranza, veramente per tutti, perché con giovani così il futuro lo vedo migliore. Alla Camu l'esibizione finale dei allunni della Masterclass tenuta dalla soprano di fama mondiale è dedicata all'interpretazione e alla tecnica vocale. Intanto sono ragazzi che hanno delle qualità straordinarie e quindi non posso altro che meravigliarmi piacevolmente e dire a questi ragazzi che debbono andare avanti e continuare a sognare ma a studiare anche tantissimo perché c'è tanto bisogno di loro, abbiamo bisogno di giovani, non c'è niente da fare e io farò di tutto per aiutarli. Sono molto contenta oggi. Vedere i big dell'industria retina in un'attività che io tanto ho voluto e sai con quanta difficoltà e apprezzarla, commuoversi e arrivare quando dovevamo decidere le borse di studio all'unanimità abbiamo deciso di darle a tutte le ragazze perché veramente ci hanno emozionato tutti. Allora quando l'emozione arriva alle persone che stanno in un mondo apparentemente freddo del numero dell'industria vuol dire che veramente l'obiettivo l'abbiamo centrato. Ed infine siamo alla pagina dello sport. Le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile affronteranno proprio domani la difficile trasferta di Parma. Sentiamo il mister ai nostri microfoni. La settimana è stata positiva. Abbiamo fatto una bella settimana. Qualche volta purtroppo le condizioni meteo non ci hanno aiutato però abbiamo fatto dei grandi allenamenti. La settimana si è corta perché giocando di sabato hai comunque una seduta in meno ma le ragazze hanno risposto bene a tutti e tre gli allenamenti che abbiamo fatto. Ora abbiamo il Parma. Il Parma è una grande squadra. È una squadra agostica forte in tutti i suoi reparti ma noi andremo a giocarsela. Per quanto riguarda Berggross sta recuperando. Stanno facendo un gran lavoro a livello medico e quindi vanno solo ringraziati i nostri fisioterapisti e il nostro medico. Però ancora non l'avremo al 100%. Sarà in panchina ma purtroppo non credo che sarà a disposizione per questa domenica. Purtroppo non avremo nemmeno a disposizione di Zotta al cui mando un grosso in bocca al lupo perché si sta operando ora e quindi spero che ritorna il più presto possibile in campo. L'atteggiamento è sempre propositivo cioè che dobbiamo andare a prenderli e dobbiamo andare a far gol. Poi vedremo un po' anche l'avversario e le partite iniziano sempre dallo 0-0 e poi vedremo come saranno loro ma anche noi ce la metteremo tutta. L'obiettivo sicuramente in primis è quello della salvezza perché è la cosa principale. Poi sicuramente cercare di fare più punti del girone di andata e cercare di realizzare anche più gol possibili e poi cercare anche di prenderne di meno. E allora per smaltire il pranzo di Pasqua perché no lunedì 1 aprile giorno di Pasquetta sarà un giorno di sport perché ad Arezzo torna la Parco Corsa giunta alla sua 22esima edizione organizzata dalla Polisportiva Policiano con il patrocinio del Comune di Arezzo e del Centro di Aggregazione Sociale di Pescaiola. Come ogni anno con questa gara si ripercorrono molti parchi della città dal Parco del Pionta al Parco Ducci al Prato al Parco di Villa Severi fino al Parco Pertini per completare l'arrivo al Parco del Foro Boario. Oltre 200 al momento i pre-iscritti. Il ritrovo è alle 8.30 presso il Centro di Aggregazione Sociale di Pescaiola. È tutto per questo nostro telegiornale. Dalla redazione di Arezzo TV un augurio di Serena Pasqua a tutti voi. Vi lasciamo con la Santa Messa ufficiata dal Vescovo Andrea Migliavacca. Buonasera. Buonasera.